Buonasera, ben ritrovati con questo appuntamento di Quala Zampa. Parliamo del caldo. In giornate come queste, molto calde, i nostri animali possono anche soffrire di alcuni disturbi. L'importante è capire che gli animali con un mantello folto, quindi con il pelo che comunque viene cambiato, ridotto durante questa stagione, ma persiste, hanno bisogno di alcune cure particolari. Cosa significa? Soprattutto coniglietti, ma anche cani e gatti, devono sempre avere a disposizione dell'acqua fresca in questo periodo e soprattutto non devono essere costretti a rimanere al sole. Pensate di essere sempre vestiti e andare in spiaggia, quindi rendetevi conto che la sofferenza del caldo per questi animali con il mantello folto è notevole. La cosa importante è quindi assicurarsi che abbiano acqua, abbiano la possibilità di andare al fresco e se vi accorgete che cominciano a soffrire, a respirare troppo velocemente con le mucose, quindi l'interno della bocca e le parti intorno agli occhi cominci a diventare troppo pallida, potrebbe sopravenire un colpo di calore. Questo è un termine usato generalmente per indicare proprio una sofferenza e una disidratazione da parte dell'animale. In questo caso, se vedete che il vostro animale comincia veramente a soffrire, cercate di refrigerarlo con dei panni bagnati con l'acqua fresca, in modo da poterlo portare a una temperatura più consona proprio alla vita dell'animale. Anche per i proprietari di ocellini potete tranquillamente mettere delle piccole vaschette con acqua pulita, perché anche gli animali pennuti hanno bisogno di rinfrescarsi, lavarsi e superare queste giornate così calde. Per questa sera è tutto, vi do appuntamento a settimana prossima. Arrivederci!